ciao raffaele ragazzi buongiorno raffaele domanda secca di lubrificanti della durex quindi un best seller adatto per le cose secche perché questo lubrifica esatto mostraci i lubrificanti della durex allora io ce l'ho più di un gusto vedi c'ho qualcosa di fresco questo è effetto fresco questo qui effetto caldo qualcosa di aromatizzato classico questo ve lo consiglio fino a marzo poi dopo dobbiamo usare esatto e giustamente quattro stagioni quattro stagioni dove li troviamo allora se prendi i nostri stori casali con soli li trovi qua come li trovi anche sul sito www il tempio dell'aeros.com potete fare un ordine acquistate da là noi facciamo spedizioni in pacchi anonimi ce l'ho di là il pacco se non vi faccio vedere consegna a domicilio nel raggio di 20 chilometri dal nostro storico di casoria consegniamo tutto qualsiasi cosa una cosa minima di 15 euro noi mettiamo in busta sempre buste anonime non c'è scritto sexy shop non c'è scritto come migliore non c'è scritto anonimo e veniva a casa vi potete dire ragazzi vi aspetto